Il treno regionale veloce 35.64 di Trenitalia, delle ore 17.16 per Venezia Santa Lucia e il partezo latinario 6. Il treno regionale veloce 35.64 di Trenitalia. Il treno regionale veloce 35.64 di Trenitalia e il partezo latinario 6. Il treno regionale veloce 35.64 di Trenitalia. Grazie per la visione Grazie per la visione